I Battiti della Notte, evento del Centro Contemporaneo delle Arti tra note, poesia e pittura. I Battiti della Notte, questo è il titolo dell'evento previsto per domani, sabato 4 alle ore 19, presso il Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania. La poesia di Menotti Lerro e le note di Thomas Krezimov si uniscono per creare una terza via dalla particolarissima entità. A corredo dell'evento la presenza delle opere pittoriche di Paolo De Matteis, con le quali le parole e le note hanno un legame indissolubile. La nostra associazione, il Centro Contemporaneo delle Arti, presenta sabato 4 maggio alle ore 19, presso l'Aula Consiliare di Vallo della Lucania, i Battiti della Notte. È un concerto poetico-musicale. I testi sono di Menotti Lerro, un autore del Cilento, nativo di Omignano, di adozione milanese, che non è alla sua prima opera. E quindi questi testi poetici sono stati tradotti in musica dal maestro Thomas Krezimov, che ha presentato insieme all'autore questo progetto in varie città europee e anche italiane. È la seconda volta che torna il Cilento, per cui insieme a queste due eminenti figure abbiamo aggiunto due cantanti, un soprano e un mezzo soprano, che sono Campane, più un altro cilentano, che è il maestro Maurizio Iacovazzo. Per cui la serata del 4 maggio vedrà non solo la poesia e la musica, ma anche l'arte, perché diventa così, la bellezza diventa trasversale. E quindi questa sarebbe una delle priorità fondamentali della nostra associazione, che guarda alla poesia, all'arte, alla musica e a tutte le altre arti con uno sguardo dell'oggi e con la consapevolezza che si arriva alla bellezza dell'oggi se si riesce a possedere la bellezza di ciò che è stato prima. Quindi lo dedichiamo, questo lo dico perché questo concerto lo dedichiamo a un grande maestro cilentano, che è il pittore di piano vetrale De Matteis, con il quale c'è un'affinità non soltanto pittorica, ma anche poetica, che cercheremo di spiegare nel corso del concerto.